L'idea era uscita dalla testa del ministro in persona. Era, da qualsiasi lato la si esaminasse, un'idea felice, se non perfetta, sia per quanto riguardava gli aspetti meramente sanitari del caso, sia per le implicazioni sociali e le conseguenze politiche. Finché non si fossero appurate le cause o, per usare un linguaggio adeguato, l'eziologia del mal bianco, come grazie all'ispirazione di un assessore fantasioso, l'indecorosa cecità aveva cominciato a essere designata, finché non si fossero trovate la terapia e la cura e chissà magari un vaccino per prevenire l'insorgenza di casi futuri, tutte le persone che erano diventate cieche, nonché quelle che vi fossero state in contatto fisico o in vicinanza diretta, sarebbero state radunate e isolate, in modo da evitare ulteriori contagi, i quali, nel verificarsi, si sarebbero moltiplicati più o meno, secondo ciò che matematicamente si suol denominare, come progressione geometrica. Quod erat demonstrandum, concluse il ministro. In parole alla portata di tutti si trattava in sostanza di mettere in quarantena tutta quella gente. Secondo l'antica prassi ereditata dai tempi del colera e della febbre gialla, quando le imbarcazioni, contaminate o solo sospette di infezione, dovevano rimanere a largo per 40 giorni. Vediamo come va. Queste medesime parole, vediamo come va, intenzionali dal tono, ma sibilline in mancanza di altre, furono pronunciate dal ministro, che in seguito precisò il proprio pensiero. Volevo dire che potrebbero essere 40 giorni, ma anche 40 settimane o 40 mesi o 40 anni. Bisogna però che non escano. Adesso rimane da decidere dove li metteremo, signor ministro, disse il presidente della commissione logistica di sicurezza, rapidamente nominata all'uopo, che avrebbe dovuto incaricarsi del trasporto, isolamento e rifornimento dei pazienti. Di che possibilità immediate disponiamo, vuole sapere il ministro. Abbiamo un manicomio vuoto, sfitto, in attesa di destinazione, alcune installazioni militari non più utilizzate a seguito della recente ristrutturazione dell'esercito, una fiera industriale in avanzata fase di completamento e c'è inoltre, non sono riusciti a spiegarne il perché, un ipermercato in fallimento. Secondo lei quale andrebbe meglio ai nostri fini? La caserma è quella che offre migliori condizioni di sicurezza, naturalmente. Ha però un inconveniente, è troppo grande, il che renderebbe difficile e dispendiosa la sorveglianza degli internati. Quanto all'ipermercato ci sarebbe da calcorare probabilmente impedimenti giuridici vari, questioni legali da tenere in conto. E la fiera? Eh, la fiera, signor ministro, credo sia preferibile non pensarci. Perché? All'industria non piacerebbe di certo, lì ci sono investiti miliardi. In questo caso resta il manicomio. Sì, signor ministro, il manicomio. E allora vada per il manicomio. Del resto, sotto tutti i punti di vista, è quello che presenta migliori condizioni perché non solo è circondato da un muro per tutto il suo perimetro, ma ha anche il vantaggio di essere costituito da due ali. Una da destinare ai ciechi propriamente detti e un'altra ai sospetti, oltre a un corpo centrale che fungerà per così dire da terra di nessuno, attraverso cui coloro che siano diventati ciechi passeranno per andare a raggiungere coloro che lo erano già. Eh, c'è un problema. Quale, signor ministro? Saremo obbligati a mettere del personale per dirigere i trasferimenti e mi sa che non potremo contare sui volontari. Non credo sia necessario, signor ministro. Si spieghi meglio. Qualora uno dei sospetti di infezione diventi cieco, come è naturale che succeda prima o poi, stia certo, signor ministro, che gli altri, coloro i quali hanno ancora la vista, lo metteranno fuori all'istante, proprio come non permetterebbero l'ingresso di un cieco cui fosse venuto in mente di cambiare posto. Buona idea. Grazie, signor ministro. Allora possiamo ordinare di procedere? Sì? A carta bianca. Grazie.